Buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli ed ecco al nostro tradizionale appuntamento con la rassegna stampa. Ieri non ci sono state partite del Mondiale, si parla soprattutto di Cristiano Ronaldo e delle trattative di mercato. Partiamo proprio dalla gazzetta dello sport che apre con un carambola Ronaldo, Mendes da Perez, la Juve aspetta CR7. Il problema poi è anche l'eventuale trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain al Real Madrid. In alto c'è un riferimento a una trattativa di mercato del Milan che sta trattando Zaza per il Napoli nulla. Per trovare il Napoli dobbiamo andare avanti, dobbiamo arrivare a una pagina interna in cui si parla di Meret che ieri ha fatto le visite mediche, stamattina sarà annunciato ufficialmente dal Napoli e di una trattativa per Lainer, il terzino del Salisburgo che il Napoli sta trattando da tempo e la cui valutazione pare essere improvvisamente aumentata. Andiamo avanti, prima pagina del Corriere dello Sport, Ronaldo ora mai più, in alto un riferimento al Napoli, Meret cancella Reina, vedremo all'interno si parla proprio dell'arrivo del nuovo portiere del Napoli. Carica Meret, mette il like sul Napoli e il like sarebbe il pollice alto che avrebbero mostrato ai fotografi quando è uscito dalla clinica del professor Mariani a Roma. In basso ancora la trattativa tra Lainer e il Napoli con il Salisburgo per portare il giocatore a Napoli, in alternativa si parla di Mounier. Ancora Corriere dello Sport e qui troviamo un articolo su Sarri e sul suo arrivo al Chelsea che è ancora in dubbio ed è una trattativa questa tra Sarri e il Chelsea che improvvisamente è diventata complicata, era dato per concluso ancora oggi, è quasi certo che si faccia, però oggi tutti i giornali vedremo hanno questo riferimento perché il Chelsea ormai è al pre-raduno, si riuniranno anche loro il giorno 9 ma alcuni giocatori si stanno già allenando al centro sportivo del Chelsea e quindi la situazione va decisa. Bisogna riscattare Sarri dal Napoli, c'è la clausa, è sotto contratto e bisogna liberare Conte, in ogni caso sono tanti soldi che ballano e quindi il Chelsea ci va piano. Appunto sotto si legge che a Stamford Bridge qualcuno già ha iniziato ad allenarsi proprio per ricordare che siamo veramente agli ultimi giorni per questa trattativa. Prima pagina di tutto sport, operazione CR7 Juve Boom, in alto Juventus-Celsi ci siamo, ci siamo relativamente perché se Sarri non firma col Chelsea è difficile che qualcun altro arrivi e voglia Higuain. Andiamo avanti, tutto sport, pagina 29 si parla del Napoli con il riferimento a Meret, porta chiusa, non solo Meret, si dice che oltre a Meret arriva Carnesis e la cosa già si sapeva, un'operazione totale da 27 milioni e mezzo di Euro e per il terzo portiere si era sempre parlato di Contini, invece improvvisamente viene fuori il nome di Frattali, ex Avellino quest'anno al Parma e col Parma ci sarebbe uno scambio di portieri. Alla società ducale va a Sepe, che era il dodicesimo di Reina l'anno scorso e appunto a Napoli viene Frattali a fare da terzo portiere. Prima pagina del mattino, alcuni riferimenti sportivi di spalla sulla destra, perché Ancelotti è il romano di De Laurentiis, Cristiano Ronaldo di De Laurentiis, l'articolo di Francesco De Luca e poi ecco Meret il predestinato erede di Buffon a firma Pino Taormina. Pagine interne si parla di Meret il bambino d'oro, anche il mattino fa riferimento alle ultime ore di attesa ma il futuro al Chelsea è incerto, ne parlavamo prima. Ancora il mattino, Amsic Giura Fedeltan, Celotti riparte da lui, sfumata la corte dei club inglesi, dovrebbe esserci un refuso perché si tratta di club cinesi, Meret a Napoli per il dodicesimo anno. Intanto Giorginio al Manchester City, ormai la trattativa e in dirittura di arrivo manca solo la nuova ufficiale, mentre è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Giaccherini al Chievo. Andiamo avanti, Repubblica in prima pagina nazionale, non ci sono riferimenti sportivi, Repubblica nelle pagine interne di Napoli, abbiamo la presentazione di Meret, ieri le visite, il famoso pollice alto, il simbolo del like di Facebook, mentre sotto si parla di Ancelotti che completa il suo staff, Ancelotti sarà domani a Castelvolturno e si parla del suo nuovo staff, l'unico superstite dell'era Sarri e il preparatore di portieri Nista. Pagina interna del Corriere della Sera, anche qui il Chelsea parte e Sarri è nervoso, solito riferimento che il Chelsea è sul punto di riprendere la preparazione, ma non è stato ancora risolto il problema con Conte, né tanto meno quello di Sarri col Napoli e quindi Sarri è nervoso. Corriere del Mezzogiorno, Ronaldo alla Juve indigna gli operai della Fiat, sono quelle commissioni tra calcio e sociale che si fanno sempre ma che raramente hanno una loro spiegazione logica, non c'è nessuna logica in effetti. Poi si vede una fotografia di Zoff, purtroppo manca la prima pagina dell'articolo in cui si spiega che Zoff parla di Meret sono tutti i due friulani e ne parla molto bene come di un predestinato e specifica che per loro friulani maggiore è la pressione, maggiore è la resa perché non hanno paura delle tensioni, quindi lui a Napoli si troverà molto bene secondo il portierone. Mattino, e qui entriamo in un altro argomento, parliamo del Napoli ma parliamo anche delle universie, la prima pagina della cronaca di Napoli, l'universia dell'ombre del rinvio, De Luca dice che non sarebbe una tragedia, c'è un problema legato agli impianti ma c'è soprattutto legato al villaggio degli sportivi, degli atleti, c'è chi lo vorrebbe fare alla mostra d'oltremare con una sorta di tendopoli e chi parla dei navi nel porto di Napoli, per il momento non c'è niente, c'è fortissimo il rischio di un rinvio, un rinvio che vediamo da una pagina ulteriore del mattino, università di arrischio, c'è l'ombra del rinvio ma lo sport dice no, le autorità sportive chiaramente sono contrarie al rinvio, però il rischio c'è e sotto si parla della possibilità di accogliere gli atleti, il villaggio olimpico all'interno di navi nel porto di Napoli, il porto è pronto ad accogliere il villaggio sulle navi da crociera. Andiamo avanti, pagina interna del Corriere del Mezzogiorno, no al camporum della mostra d'oltremare e qui continua la polemica perché era stata la sede prescelta, vediamo che cosa succede, di sicuro c'è il rischio che non si possa fare, ci sia un rinvio delle operazioni. E con questo abbiamo concluso, a domani.